Gli sforzi di risanamento di Royal Bank of Scotland cominciano a dare i loro frutti. La banca britannica, quasi completamente nazionalizzata con il salvataggio del 2008, ha pubblicato risultati per il primo trimestre decisamente migliori delle attese. L'utile netto è triplicato rispetto al periodo ottobre-dicembre a oltre 1,4 miliardi di euro, spiazzando gli analisti che avevano previsto poco meno di 250 milioni. A pagare è stata soprattutto la decisione di mettere in quarantena i prestiti deteriorati in una bad bank creata appositamente per salvaguardare le attività sane e rilanciare il credito a famiglie e imprese.